Zona a traffico limitato ma non in tutto il centro storico di Sciacca. Attivata solamente il 12 luglio scorso e limitata fino al 31 luglio solamente al fine settimana, ossia da venerdì a domenica, ha già comunque generato la protesta dei commercianti di quel tratto di corso Vittorio Emanuele che è rimasto escluso dal provvedimento di intervizio nel transito veicolare. Parliamo della zona che va dall'incrocio con via Incisa, all'incrocio con via Pietro Gerardi, arterie anche questa assieme a via Conso aperta al traffico. Il transito di auto e scooter ovviamente impedisce alle attività di ristorazione, soprattutto di collocare come avviene ogni estate tavoli e sedie all'aperto. Si tratta di locali che solitamente nel periodo estivo usufruiscono di questo ulteriore spazio, pagando il suolo pubblico e offrendo ai clienti la possibilità di cenare all'aperto. Tavoli e sedie che quest'anno sono rimasti negli scapuzzini e commercianti che lamentano un danno economico non indifferente. È chiaro che pochi clienti scelgono in piena estate di rintanarsi all'interno di un locale, seppure dotato di impianto di climatizzazione. L'esclusione di questo tratto dalla ZTL è legato alla concomitante chiusura, seppur ormai da diversi mesi, di via Eleonora d'Aragona. Le auto provenienti da Piazza Carmine non hanno la possibilità di percorrere quell'arteria e quindi, per non penalizzare la viabilità esterna alla zona della ZTL, è stato consentito di svoltare verso Corso Vittoria Emanuele, la via Pietro Gerardi e Piazza Marconi. Ragioni che non si conciliano però con le esigenze di quei locali che si sentono penalizzati dalla mancata chiusura al traffico veicolare nelle ore serali e dalla conseguente impossibilità quest'anno di collocare tavoli e sedie all'aperto. Commercianti di categoria B, così si definiscono in relazione alla problematica che si è venuta a generare dopo anni in cui avevano avuto l'opportunità nella stagione estiva di usufruire di questo spazio esterno. Chiaramente lamentano un danno economico non indifferente e sono arrabbiati anche se sperano ancora che l'amministrazione, pur nella difficoltà legata all'interdizione di via Eleonora d'Aragona, trovi una soluzione per estendere la ZTL anche a questo tratto rimasto escluso. Soluzione che pare sia stata anche prospettata ma che non ha trovato finora riscontro. Da qui anche la delusione. Saremo anche poche attività ad avere il problema ma abbiamo il diritto di lavorare come gli altri asseriscono.